Ciao a tutti io sono Valerio, io sono Lisa, noi siamo Widi, voi siete Widers ed oggi sono tornati a un nuovo video, nel mio dio, io e Bari abbiamo deciso insieme a Millie di tormentare i nostri amici, infatti Adri che è la mia migliore amica e Andrea stanno venendo qui nella nostra casa e noi ci faremo trovare più sdolcinati possibili e vedremo la loro reazione fino a quando non sclereranno, quindi se non avete ancora fatto mettete subito un mi piace a questo video iscrivetevi al canale dovete farlo e dobbiamo posizionare subito le camere, a dopo abbiamo lasciato la porta di casa aperta perché loro dovrebbero arrivare praticamente a minuti, io e Bari abbiamo posizionato la prima camera e ce ne sono altre nella casa perché noi andremo in giro, però non andremo ad aprirgli la porta dato che l'abbiamo lasciata aperta perché appena arriveranno ci faremo trovare qui sul letto che tipo ci facciano i fatti nostri e vedremo la loro prima reazione ovviamente anche qui è con noi perché tu non puoi uscire dal letto anche Lulu, però non si deve andare, quindi abbiamo posizionato oh ma che ci vuole ad aprirgli una porta? ah si, oggi sta divulgando oh, scusate oh, scusate ragazzi, guardate qui già qui abbiamo fatto oggi se mi vuole l'abusa, no aiuto, come fa gelato? ma sarà che sto troppo esplicito? eeeh scusate ma posso dirtela io? sarà già la saliva di video ahahah lui comunque se non c'è lo studio di questo video eh si, come no sai? io la mia ragione alla fine è più caldo, lo so il canale io sono ce lo sa io lo sa no, guarda che il video è una roba no, guarda che il video è una roba ahahah ma lo sa più ma lo sa più e così la sento la musica che mi sia fatta da me è una scusa che ero no no oh mio dio quanti cose sto scoprendo non so oggi tu per mandare una roba tanto è bella raga ma hai visto che è bella? no o no ma se di solito le dici che è bruttissimo è bruttissimo è bruttissimo ovviamente è sempre erodica no? si infatti oggi è bellissimo io ho fatto i miei capelli cioè guardate quanti sono belli questi capelli sembrava essere è brutto è brutto è brutto guadillo 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 ho un mal di bollo c'è il cuo lo tutto fruttato ma niente vicino a me a me c'è stai riusciando a me mi sono addosciano a me non c'è una scorpio ma è una scorpio non c'è una scorpio è freddo perché mi fa freddo sapete non ci siete in via da pene lo sappiamo bene ma è al solito è aperto Ma la regola del buon padrone in casa prevede che uno ti venga ad accogliere Voi invece vi fate ritrovare sopra al letto con un telefono in mano E noi che vi stiamo urlando da fuori Apriteci Sarà più sempre bene il soldo Oddio Che è stato? Vili tenibili Ma che? Riga moriremo Ripeto, ma ti sei svegliato con lo zucchero questa mattina? Sì, però Sì, veramente questa mattina non lo so Volevo più dulci del zucchero Bullo, attacca Valeno Attacca, attacca, bravo cazzo Ma io voglio qui, questo è il mio fidanzato, io Adesso il brodico è un po' io a pesa, che faccio? Vabbè, direi che è arrivato il momento di giocare a mare calcio Quindi che ne dite? Andiamo, andiamo, andiamo E' anche un problema di sbombare Scusami tu, poi voi sarete già l'altro Vabbè, andiamo, sembra un brutto No, è il brutto, perché poi ce l'avessi chiamato No, ci diamo, ci diamo No, ci diamo Il divano è il mio No, è il mio Caramelle 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 Vabbè, è il vento Ah, è il vento Ah, è il vento Sono viste Ah, questo è il cascato Che li lascia male Dai, regrazzogliamo Vieni Voi vedete la caramella Vabbè, c'è nera il switch Oddio Tutte le caramelle verdi, dai Vabbè, c'è nera il switch Vabbè, c'è nera il switch Eccolo, vai Ok, raga, vediamo se gioca Vabbè, c'è nera il switch Come si gioca? Non so, perché Come si gioca? Ragazzi, con Genesimo, come si gioca? Ma dai, ma dai È meglio evitare Mia, vieni qua No, oggi, vieni qua Vieni, ma vai Vieni Ma che tu sei? Ma lei lo sei Come dai Vieni 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 Non so, ci sono alcuni Ok Oh, secondo Certo, è un tccato Ma non mi vedi, ci sono Quindi, non vedi niente Porto Sono andata su una fuggia Ragazzi Ragazzi, lo sto vedendo Che state facendo particolarmente Vieni, che pena Potete evitare di sbaciucchiarvi E farci il vedere Dai, che è Andrea Siamo su Lui prima Io secondo nooo si non ci chiamano ma non ci chiamano ci 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 dai che non è ricco ragazzi lo che fate? ma la cosa ti chiude ragazzi ragazzi è la 1-1 ragazzi vieni a capare l'ombrino ragazzi amore è troppo rispettata non è che scada più di tanto non è che scada più di tanto non c'è bisogno che ti accoglia non sa valere ma è se ci devo stare a me sei troppo gelosa secondo me siete potenti se non mi sarei solo parlando perchè abbiamo messo il camarecato guarda adesso è arrivato prima è distratta perchè se ci pare è così bello che c'è la mia distratta a me ti metti le verità eh voglio fare l'altra non ce la prende potresti prenderlo di fronte a me che ti faccio vedere ma poi la porto ma poi la lucella nooo non voglio fare luce oggi ragazzi ci stare spessando ragazzi ragazzi mi metto la partita ma no dai dai no ragazzi stanno questi sono scesi ma oggi non ci chiamano va bene cioè ci hanno fatto ogni qua per fare cosa per vedere a loro che si avvicinano è passato ci vediamo vedete molto si va bene sono molto legati stanno sempre insieme ma l'era mi diceva sia bellissima quando solitamente la prendi in città non lo so secondo me rush ecco quello che ha fatto ci siamo sì lo ho guardato ma sì magari che va per dare per riportare no non so la foregg isotini ok per prodosional parte la vedi no ah e b Ma questo è davviso, metti vicino a te Tendi questo tu No Ma come è apparuto? Ma mi ha provato a metterlo Ma non so Non mi sono andato No, vabbè, per te Ah, ma io sentivo tanto di strano i rumori Chissà che cosa state facendo, me lo vuole Uno che pensava, chissà che cosa stesse succedere Via Mi immagino di sfruttare Ma è violenta Sssh Oddio Oddio Ma come? Oh Via Levati, mi stai dando fastidio Ma stai giocando? No, mi stai dando fastidio Giazza Ma che hai oggi? E' il primo piccolo Magari torniamo giù finiamo la partita oppure se vi scocciano Magari noi non finiamo Che dobbiamo fare? Che farei che hanno già vincito ma scuola di martiti Non è vero avete perso ha visto Andrea Diciesimo e dodicesimo posto Sembra il dottorio Sembra il dottorio Sembra il dottorio I tu Vabbè ragazzi ha vinto lo sforte aniamo a fare qualcos'altro Dai Mamma mia come siete pare Ma che ti pare siamo a casa 2 Giochiamo al nascondino a coppia, ok? Lui sarebbe errore, nascondetemi Vai, giochiamo al nascondino Ci divertiamo a coppia, lui sa contro voi Andate a nascondermi Vai, che partiamo sicuri a casa Vi distruggiamo, sopra tutti i posti Vai, nascondetemi, lui sa compià Vai 10, 9, 5, 4, 3 Ok, sono scusa Oh, mi hai distrutto, sei un casino Ma è la mia intenzione, scusa Adesso rimaniamo qui Ma loro avrebbero rinnoo arrabbiati Pensando che sia una scusa di farne la vita Regà, ma state scherzando Siamo tutti, ma è mezz'ora Oh, siamo lontano Sì, ci stavate cercando, facendo questo Ma che cosa sta dicendo? Ma che veramente fai Sì, che cosa avete oggi? Ma io mi hai fatto male, poverino, per vedere Hai fatto male? Luisa, facendo che te li peggio schiaffi Ma vabbè, ma io mi hai fatto malissimo Ma io non ho capito Braga, ma perché me la prendete di cosa? Tu sai, ma state fuori voi due Ma ci volevamo stare un po' con voi Ci vogliamo dappertutto Che stiamo sempre pieni di scusa No, dai, non aprite la porta, venite qui No, era una scherzo in realtà Io vale per la parola Che ci sto uccidata possibile Ma io non so, è uno scherzo Sì, che era una scherzo, scemo Lo sapete, rimanimi È una scherzo No, no, è una scherzo No, no, è una scherzo Ok, no, è nessuno scherzo Pensate che voleva gestificare Ci dispiace, abbiamo sbagliato Voi siete delle capre Ma anzi, noi l'avevamo detto Che te l'avevamo detto? 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 Ma l'avevamo detto, basta Ma voi? Non scherzo, poi scusate Come l'avete ripreso? Potete spiegare? Ci sono vari cambiamenti per la carta Una e lì E poi ci sono altre Chi è insaggioso? Che c'era una che è in cucina Sì, non ci sapevamo Perché dovevamo andare E viviamo in seconda Ma che bagno? Siete andati in bagno? Che ne abbiamo ripreso? No, no, no No, no, no E sei peggiori o me ne vado? No, no, no Forse abbiamo esaggiato Rolente troppo Loro sono ancora arrabbiati Ma fanno la parte Sì, che bello Sono arrabbiatissimi Io ho preso 3000 cucinate addosso Vorrei dire solo questo Cioè, la finita non io Con questo video In questo video Perché ho preso le mazzate Da tutti quanti E il video di oggi vi c'è qua Speriamo che se avesse è piaciuto Se è così Identinatevi di iscrivervi al canale Facilissimo Basta che in questo pallino avete Questi due video sono Stramegafiki E al prossimo video